bella ragazzi siamo i grassi e siamo tornati oggi un nuovo episodio di in segreto e ogni volta che c'è in segreto vi faccio dentro dove sono ma è mio questo? ma è il tuo questo? di zero proprio? non sei pronto per la rapina? yo vai vai aspetta slenderman eccolo è lui vai leggi il primo donna di 20 anni no 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 un giorno mia madre prima di cominciare ragazzi ci voglio dirvi di lasciare 5 mila d'acqua per un prossimo episodio perché dite sempre che vi piacciono di tanto questi in segreto quindi mostratecelo qua sotto anche in descrizione ci sono i nostri instagram seguiteli perché io sto quasi a 90k quindi dovete farmi ci arrivare perciò niente cominciamo un altro giorno ero in cucina da sola i miei erano andare a dormire già da un pezzo quando senti gridare mia mamma mi preoccupai andare a vedere se fosse tutto apposta appena apri la porta stanno facendo le loro cose non mi sono mai vergognata così tanto tocca fa silenzio però mentre uno fa le cose con l'altro in casa oggi stavo mangiando un hamburger su una panchina è passato un gruppo di vegani con dei fisici irachitici sul mix irachitico con tanto di magliette che hanno iniziato a criticarmi ho mangiato quel pagino con più foca possibile non scorderò le loro facce palide stupite che gente di merda ma che c'ho scritto vegani in faccia eh tipo I love vegans don't kill any animals uomo di 16 anni dico sempre a mia mamma che esco ma in realtà vado a fare sesso con delle mie amiche cioè siamo in 4, 2 maschi e 2 femmine con loro usciamo sempre e scoppiamo vabbè un bello cazzo devo dire bravo uomo di 30 anni ho avuto un solo un rapporto sessuale con una cicciola che mi è servita per svuotarmi i coglioni io l'ho detto in faccia e lei poi si è suicidata ora tutti i miei conoscenti mi hanno tolto il saluto dicendomi che sono il più grande pezzo di merda forse devi regolarti un po' eh pure a me però magari se tu hai regolato un attimo ma tanto non è mai vero cioè in effetti esiste la delicatezza hanno sbagliato sei una merda intera quanto sei gentile hanno finalmente ragione e non l'ha digerita ah le persone d'oggi fai suscitare un danno e non ti rivolgono più hanno ragione fidati ma dai povera stella hai il mondo contro certo che la gente è proprio perfidata tu sei meraviglioso e puro quando avevo 12 anni aveva quella compagna puttana si vestiva con maglie attillate le cisioni imbottito di ovatta pantaloni in mezzo al culo e seppe di 20 centimetri il problema è che è brutta come l'ebola e pensava che tutti i ragazzi gli andavano dietro il segreto ogni giorno gli lasciavo anonimamente finti i bigliettini d'amore dai ragazzi più belli della classe questo è proprio un corbeleno tu invece sei totalmente figa che il cazzo non lo vedi nemmeno col binocolo e rosichi e rosichi e l'ha chiesto due volte tanto per essere chisi e rosichi l'ho sempre stato belloccio della classe e dalle medie per fare lo stronzo prendevi in giro una ragazza con qualche chiletto in più con i miei amici poi si è suicidata questo per tutti e tre gli anni l'ultimo giorno andai da lei per scusarmi e ripulirmi la coscienza lei di tutta la risposta si incazzò e mi mostrò i tagli che si era procurata per colpa mia dopo che fece questo lei ha arrossito parecchio in quel momento la vidi così carina che la baciai dall'imbarazzo scappo via e tutto questo in quale film? e domani vi tagliate sciupa femmine bilbantero ho fatto un gode ucchi 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 poi fa rite perchè c'è sta stivui capito? si ho fatto una ragazza che va bene a scuola e ho un comportamento molto buono ma il mio problema è che molte volte mi piace comportarmi un po' da troia per attirare i cazzi ma dopo averlo fatto mi sento in colpa hai detto implicitamente per attirare i cazzi lo sai? invece che i ragazzi ho il gode ucchi anche le troia anche le troia hanno un animo quando vado al cinema con i miei bimbi metto il più piccolo nel passeggino con la copertina e gli dico di far finta di dormire alle cazzo le dichiaro che a meno di tre anni così non paga il biglietto anche oggi ce l'ho fatta i ragazzi le bollette però che risparmi il ragazzo ha anche i lacrime premessa il mio ragazzo siamo fan di Big Bang Theory è da tre mesi che il mio ragazzo mi chiede di fare sesso con lui un giorno ero stufa e gli risposi chi l'avrei fatto con lui quando l'avrebbero fatto Sheldon Emi mi sono fregata da sola e io non l'avevo ancora vista quel pezzo mi piace tirare i capelli dalla mia ragazza mentre facciamo test e siamo super eccitati un giorno però ho tirato così forte che mi è rimasta una cicciona ormai che mi è rimasta una ciocca intera in mano la mia ormai ex ragazza ha pianto tutto il giorno e poi mi ha lasciato dandomi della testa di cazzo ok questa era divertente vabbè ricazza da circa un anno una mia ex con dei video di noi mentre scopavamo minacciandola di mandarli al padre non me ne pente sapete perché ha rubato 250 euro che mia madre teniva in un cassetto per ogni venenza è talmente stupida che me ne ha restituito 240 circa e continua così impari cagna sei vero ma giusto fai bene mio padre mi ha chiesto di mettere il sal in friulano con cime nelle piante io ero distratto e non ho capito molto così ho deciso di mettere il sale grosso nella siepe e tutte le rose e i gelzoni di mia madre pensando che servisse per togliere le erbacce il cortile era il deserto del copio ho investito una vecchia mentre facevo retromarcia con il mio sub presa dalla paura sono scappata subito arrivata a casa ho deciso di dire tutti a mia madre dopo averci pensato per un po' ma mi ferma subito dicendomi che la nonna aveva avuto un incidente non l'ho proprio vista per quanto è passa vabbè questo è palesemente fake però fa ride ho conosciuto la nonna mentre aspettavo l'autobus infermata di sera ci ho chiacchierato anche sull'autobus per un bel po' visto quanto è socievole e simpatica l'ho rincontrata di nuovo qualche giorno fa mi ha fatto un sicuro mentre aspettavo l'autobus che fortunatamente era in ritardo e fra poco lo sarà anche lei certo come no bravo si certo forrest gump quando vedi film in cui vengono distrutti i peluche scoppi a piangere il giorno dopo vado a comprarli uguale per riempirlo di coccolo e affetto si lo so sono abbastanza strana un pochetto poco però eh voglio fare la youtuber già cominci male perché non lo si iscrive sin da quando ero piccola faccio dei video che poi non pubblico mai per paura che mia madre mi scopra e mi isgridi quindi ragazzi quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciamo 5.000 like come abbiamo detto passate sui nostri profili instagram e commentate dicendo hashtag ugo de uchi e niente ragazzi grazie a tutto al prossimo video ciao